Bilancio, società partecipate e attività produttive sono le deleghe del nuovo assessore Michele Bacchi, commerciarista, esperto in fondi comunitari, questa mattina alla presentazione del nuovo componente della Giunta Valenti. Le dichiarazioni di ieri di Simone Di Paola riaccendono le polemiche politiche, il centrodestra reagisce all'accusa di essere un disco rotto, il capogruppo del PD si arrampica sugli specchi pur di difendere l'amministrazione, dicono i consiglieri. L'ospedale di Ribera è condannato a morte, a sostenerlo nel Movimento 5 Stelle che chiede una conferenza dei sindaci e se necessario di superare l'attuale unificazione con l'ospedale di Sciacca, oggi pomeriggio alla multisala Vesper sul tema sanità. Riqualificazione della villa comunale, polemica tra il presidente dell'associazione coi piedi per terra Sergio Panunzio e il senatore pentastellato Rino Marinello, accolto al nostro progetto lui non c'entra niente, dice Panunzio. Valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico e paesaggistico della città di Sciacca, questo l'obiettivo del comune di Sciacca e delle comusee dei Cinque Sensi, che ieri pomeriggio hanno sottoscritto un apposito protocollo d'intesa. Un iPad per ciascuno degli studenti dell'Euroform, scuola professionale dei mestieri, che ha una sede anche a Sciacca, un piano di azione messo in campo grazie al supporto di Apple Italia. Oggi nell'ente consegnato i dispositivi. Ben trovati al nostro telegiornale, in apertura la politica, bilancio, società partecipate, e attività produttive, queste le deleghe assegnate al nuovo assessore Michele Bacchi, commercialista e esperto di fondi comunitari. Stamattina c'è stata la presentazione, vediamo. Ha firmato questa mattina dunque la sua nomina ad assessore del comune di Sciacca, il commercialista Michele Bacchi. Sul tavolo ha anche il suo curriculum esperto di fondi comunitari, ma le deleghe alle assegnate sono quelle di bilancio, società partecipate e attività produttive. Io ho ritenuto, a differenza di chi magari da lontano critica e mette soltanto pettegolezzi, di spendermi in prima persona, riboltarmi le maniche e mettermi a lavorare. Quindi con questo spirito di approccio io ritengo di dare un contributo alla città con le deleghe che mi sono state assegnate, che sono poi, peraltro, coerenti con il mio profilo professionale di commercialista. avendo maturato anche esperienze in pubblica amministrazione, quindi come revisore, avendo fatto due mandati in comuni non a Sciacca, ho collaborato indirettamente con politici per quanto riguarda, per esempio, il comune di Palermo o qualche altro comune, nell'attività amministrativa, emendamenti, regolamenti e quant'altro. Quindi questo è un po' l'esperienza che ho maturato. Adesso ho ritenuto di fare qualcosa in prima persona per la mia città perché chiaramente se non la facciamo noi e ci spendiamo non andremo da nessuna parte. Chiaramente questo so già a priori che porterà delle critiche anche sostanziose sul mio operato, sulla mia persona, perché è un ruolo molto importante anche di fulcro, perché il bilancio rappresenta il fulcro dell'attività amministrativa di un ente. Senza bilancio quindi significa autorizzare le spese e quindi tutto ruota attorno ad esso. Chiaro che le critiche ci saranno. Io sono un bel lieto di accettare le critiche perché queste fanno crescere, però devono essere delle critiche costruttive perché i pettegolezzi politici li rimandano al mittente nello stesso modo per cui arrivano. Questo quindi voglio essere chiaro. Se qualcuno vuole apportare un contributo, che lo faccia, però fare delle critiche politiche, anche perché io entro come tecnico, la politica, non sono un organismo politico. Qualcuno mi ha messo la foto di Michele Catanzaro alle spalle, tanto un amico, una persona che conosco, abbiamo lo stesso nome, ma non sono né un suo adepto, né anche un suo discepolo. Quindi questo lo voglio precisare, ma non per distaccarmi da Michele Catanzaro, perché è giusto dire alla cittadinanza quella che è la realtà delle cose. Francesca Valente ha confermato con la nomina di Michele Bacchi la composizione a cinque assessori della sua giunta, così come era prima delle dimissioni di Calogelo Segreto e Carmelo Brunetto, anche se non esclude che in arrivo potrebbe esserci un'altra nomina. Ovviamente abbiamo sempre l'opzione di altri due assessori, questo vedremo nelle prossime settimane, se allargarla ulteriormente oppure no. A questo punto diventa, io credo sì, almeno a sei, però anche quello, vedremo. Che le Bacchio lo conosco da tanti tanti anni, per altre vicende assolutamente in amicizia come professionista, e quindi credo che l'apporto della sua professionalità, della sua serietà sia assolutamente utile per la città. Quindi è ricaduta su di lui, sul suo nome per questo motivo, tenuto conto delle sue capacità in dubbio e ovviamente anche della sua voglia di fare qualcosa per la città. Noi non siamo un discorotto, è piuttosto il consigliere Di Paola che suona uno spartito fuori contesto. Questa è la replica del centrodestra all'indomani dell'intervista alla nostra emittente del capogruppo del Partito Democratico. Di Paola accusato di arrampicarsi sugli specchi pur di difendere l'amministrazione valente. Il servizio di Massimo D'Antoni. La realtà dei fatti è che il centrodestra non è affatto un discorotto come il consigliere Simone Di Paola ha affermato, ma anzi raccoglie il comune sentire della città che ormai è diventato dilagante. E questo all'indomani dell'intervista alla nostra emittente del capogruppo del PD, il tono della replica diramata dai gruppi consigliari che compongono lo schieramento opposto a quello che sostiene l'amministrazione guidata da Francesca Valenti. Per il centrodestra il consigliere comunale del Partito Democratico, Simone Di Paola, dimostra ancora una volta tutte le sue contraddizioni. Ci accusa, sostengono i consiglieri, di essere litigiosi e di fare sempre polemica, ma è lui che con la sua intervista è in maniera del tutto gratuita che è intervenuto nel dibattito politico con una vera e propria provocazione. Un'intervista quella di Simone Di Paola che per il centrodestra richiama quello che poi viene definito il perfetto stile Valenti, provocare e ridere gli avversari politici e contestualmente dire che cattivi sono gli altri e fare le vittime. Insomma, d'opinione dei gruppi di centrodestra, la città chiede a gran voce di mandare a casa questa amministrazione e Simone Di Paola, tanto per rimanere nella metafora musicale lanciata con il disco rotto, suona uno spartito completamente fuori contesto. Sembra quasi che il capogruppo del Partito Democratico viva in una campana di vetro, ragionano quelli del centrodestra. Centrodestra che in ottica futura respinge l'accusa di stare puntando al concetto del levati tu che mi ci metto io, noi, dicono i firmatari della nota di oggi, pensiamo oltre al futuro della nostra città e che in questi anni, aggiungono, l'amministrazione Valenti sta irrimediabilmente pregiudicando. Al consigliere Simone Di Paola, accusato infine di arrampicarsi continuamente sugli specchi pur di difendere il sindaco Valenti, viene consigliato di entrare in giunta, vista quella che viene definita la spasmodica ricerca di assessori, con evidente riferimento alla nomina odierna del commercialista Michele Bacchi che succede al recente innesto di Roberto Locicero. Anno nuovo che dunque riparte, così come era finito il 2019, con sullo sfondo le polemiche, un clima da campagna elettorale perenne che almeno stando così le cose difficilmente potrà cambiare. Una conferenza dei sindaci del versante riberese sull'ospedale appunto di Ribera è quanto chiede al sindaco Carmelo Pace l'assemblea permanente del Movimento 5 Stelle. L'ospedale Fratelli Parlepiano è condannato a morte, solo una forte azione politica del territorio, sostengono i promotori dell'iniziativa, può cambiare questo destino. Per l'assemblea permanente del Movimento 5 Stelle si deve puntare alla fine degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera, se ciò è necessario, alla causa del nosocomio riberese, ma c'è il servizio. Un pronunciamento dei sindaci dei comuni che fanno riferimento all'ospedale di Ribera è quanto ha chiesto l'assemblea permanente del Movimento 5 Stelle del Comune Crispino al sindaco Carmelo Pace, una conferenza dei sindaci per esprimere i bisogni sociosanitari delle comunità amministrate e per avviare una forte comunazione politica per salvare l'ospedale di Ribera da quella che definiscono la cronaca di una morte annunciata. I rappresentanti dell'assemblea permanente ne sono certi dopo l'audizione in Commissione Salute dell'Ars che si è svolta nello scorso mese di dicembre. Per cambiare quello che appare come un destino inesorabile sono convinti che occorra tentare di tutto, anche pensare, se necessario, alla fine degli ospedali civili riuniti di Sciacca e Ribera e derogare o modificare quelle che sono le direttive della rete ospedaliera. Per l'assemblea permanente del Movimento 5 Stelle non ci sono alternative, se non quella di cambiare lo stato delle cose attraverso una volontà politica forte che parta dai territori e che punti a sfruttare il decreto ministeriale del 2015 laddove si fa riferimento ai presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate e con collegamenti di rete viaria complessi. L'ospedale di Ribera come punto di riferimento dunque dei comuni di Calamonaci, Burgio, Villafranca, Luccasicula, Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Caltabellotta, Montallegro e Cattolica e Raclea. Questo l'obiettivo a cui mirano gli esponenti dell'assemblea permanente dei 5 Stelle, anche se tutto ciò si scontra con una realtà, quella degli ospedali civili riuniti di Sciacca e Ribera, sancita dalla rete ospedaliera approvata lo scorso anno in via definitiva e dopo una serie di concertazioni con i territori. Assemblea dei 5 Stelle che ritiene inconcepibile legare alla logica dei numeri, la cura e l'assistenza sanitaria e che ritiene ai limiti del consentito, sia per il personale medico e sanitario, sia per i pazienti, il servizio offerto dall'ospedale di Ribera, non mancando di evidenziare le lacune dell'ospedale di Sciacca, almeno per la situazione del pronto soccorso. La politica, dicono, ha l'obbligo di guardare oltre i numeri ed è agli amministratori comunali, a partire da Carmelo Pace, che si sollecitano iniziativa a sostegno dell'ospedale Parrapiano, a cominciare dalla convocazione a Ribera della conferenza dei sindaci del territorio. La vertenza ospedale di Sciacca e Ribera al centro della prima puntata dell'anno di Vesper al cinema, che registreremo oggi pomeriggio dalle 18 alla multisala Badia Grande di Sciacca. Ne approfitteremo anche per fare il punto di un po' di storia, a ricordare quanto fu importante per il territorio e il periodo in cui la sanità saccense era autonoma rispetto al passato. Sentiamo. Palermo 1996. Con un autentico storico blitz all'Ars e deputati regionali Pasquale Mannino e Siso Montalbano riescono ad ottenere il riconoscimento dell'ospedale di Sciacca quale azienda ospedaliera. Autonoma ad aggrigento, uno smacco a dir poco imperdonabile per gli equilibri geopolitici dell'epoca, la sanità di Sciacca diventò in breve un punto di eccellenza in Sicilia e nel meridione d'Italia, a firmare l'istituzione dell'azienda ospedaliera di Sciacca fu l'allora assessore regionale alla sanità Massimo Grillo, pressato in quella direzione dal segretario regionale dell'epoca del suo partito di allora il CDU, che era un altro saccense. Stiamo parlando di Nuccio Cusumano. Vent'anni dopo la spending review cancellerà con un colpo di spugne quell'esperienza e oggi siamo di nuovo in un calderone, quello dell'aspe di aggrigento, dir poco ingovernabile, dove le corsie del Giovanni Paolo II, non solo loro, sono gironi infernali e non certo per responsabilità del personale sanitario, che anzi si fa in quattro per rispondere alle necessità dei pazienti. Ne parleremo oggi, dalle 18, nella Sala degli Archi della Multisala Badia Grande per la prima puntata del 2020 di Vespera al Cinema. Parleremo anche della battaglia condotta dal Comitato Civico per l'ospedale, di quella della comunità di Ribera, preoccupata per le sorti del proprio presidio, che giuridicamente è unificato con quello saccense, che in questa prospettiva non dispone più del pronto soccorso, cosa che ha generato preoccupazione e proteste, perfino sulla stessa condizione di ospedale riunito con quello di Sciacca. Insomma, la questione dell'ospedale non può non preoccupare una comunità che con la governance tornata da aggrigento nel tempo ha perso molti punti, soprattutto per un problema oggettivo, quello di chi, se ha bisogno di una struttura più qualificata rispetto all'ospedale di Sciacca, sceglie gli ospedali palermitani, non sceglie certo il San Giovanni di Dio, per non dire che gli ospedali di Agrigento e Sciacca, in teoria, sono entrambi idea di primo livello, ma dotazioni organiche e finanziarie continuano a rivelare delle discrepanze, non da poco oggetto di dure prese di posizione, da parte di un comitato civico, che con le sue proteste e con l'impegno anche della deputazione regionale, oltre che con quello della Presidente della Commissione Salute dell'Arse, Margherita Larocca Ruvolo, è riuscito a strappare importanti risultati, compresa la Stroke Unit, che la commissione nominata dall'assessore Razza aveva incredibilmente cancellato a Sciacca per dirottarla a Castelvetrano, una battaglia continua, su cui oggi faremo il punto. Di qualificazione della Villa Comunale di Sciacca c'è la soddisfazione del Presidente dell'Associazione con i piedi per terra, Sergio Panunzio, per il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, disposto dall'amministrazione comunale, che servirà per realizzare il progetto di sistemazione e valorizzazione della Villa, a suo tempo presentato proprio con l'Associazione. Panunzio che non manca poi di polemizzare con il senatore Rino Marinello. C'è il servizio. Nell'ambito del mutuo, da un milione e mezzo di euro contratto dal Comune di Sciacca con la Cassa Depositi e Prestiti, annunciato al nostro telegiornale dal Sindaco Valenti lo scorso 28 dicembre, 70 mila euro, come è noto, saranno destinati alla Villa Comunale Ignazio Scaturro. Si andrà così a realizzare parte del progetto presentato dall'Associazione con i piedi per terra, presieduta dal professore Sergio Panunzio e presentato nello scorso mese di giugno in occasione della firma del protocollo d'intesa tra Comune, Associazione, Università e Orto Botanico di Palermo e istituti scolastici. Il progetto in realtà è assai più corposo ed ambizioso, ma finalmente può davvero iniziare il percorso di riqualificazione e valorizzazione della Villa Comunale di Sciacca. Mira ad un obiettivo ben preciso, quello intanto di ripristinare l'antico fasto della Villa Comunale, ricreare praticamente le condizioni minime per la gestione botanica e come uso sociale della stessa, della Villa Comunale, ma poi soprattutto che è quello, diciamo, l'oggetto più importante di questo progetto, l'obiettivo più importante di questo progetto, e l'uso di questa Villa che noi abbiamo intenzione di fare e di cui l'amministrazione naturalmente è d'accordo. Ce ne fa cenno? Certamente. Il cenno, cioè l'uso di questa importante, di questo che noi abbiamo definito monumento storico botanico e naturalmente deve essere quello di carattere sociale, di socializzazione, di incontri, dove tutti possono frequentare la Villa Comunale, ma soprattutto creare un centro di ricerca e di studi, tant'è che noi abbiamo realizzato con il Comune un protocollo d'intesa nel quale praticamente è presente anche il corso di laurea della Facoltà di Agraria Parchi e Giardino e l'Orto Botanico di Palermo, perché l'idea che noi abbiamo di questo uso della Villa Comunale di Sciacca è quella di dare un segnale di qualità, un centro dove possibilmente possono anche essere fatte delle ricerche botaniche. Nello stesso progetto, e questo farà parte del terzo stralcio, noi abbiamo previsto anche una serra garden all'interno della quale, per effetto della collaborazione anche dell'Istituto Professionale IPIA, realizzeremo tutta una serie di tecnologie sempre relative alla coltivazione idroponica, fuori suolo e quant'altro necessario per portare avanti questo tipo di sperimentazione. Quindi, oltre a naturalmente l'aspetto sociale botanico, la realizzazione della riqualificazione di questa Villa Comunale passa attraverso anche un pensiero scientifico che noi via via andremo realizzando. In questi mesi, oltre alle iniziative proposte dall'Associazione con i piedi per terra, sono state portate avanti e realizzate sempre all'interno della Villa Comunale anche altre iniziative promosse dal senatore Saccenze del Movimento 5 Stelle, Rino Marinello, con cui il professore Panunzio non manca però oggi di polemizzare. Benvenga che sulla Villa ci sia l'interesse di più parti, ma i principali artefici del progetto che si sta realizzando siamo noi, puntualizza Panunzio. Sono rimasto un po' abbastanza meravigliato di questo intervento. Avrei gradito, anche per correttezza, per onestà mentale, che nel discorso del senatore Marinello fosse stato tirato in ballo l'Associazione, che, ripeto, noi abbiamo partecipato, abbiamo in maniera anche così diciamo abbastanza modesta, noi siamo stati i principali artefici di questa realizzazione. Io ricordo che l'Associazione ha partecipato al bando della democrazia partecipata, per cui è stato possibile realizzare il primo stralcio del finanziamento e quindi realizzare il primo stralcio dell'impianto di irrigazione. Successivamente, anche su sollecitazione dell'amministrazione, abbiamo presentato gli elaborati, l'esecutivo del secondo stralcio del progetto, quello di cui ora si andrà a realizzare il finanziamento. E saremo noi quello che realizzeremo successivamente il terzo ed ultimo stralcio del finanziamento. Devo anche ricordare, in effetti, per correttezza, per onestà mentale, intellettuale, che questo iter è stato un pochettino voluto, supportato e sicuramente gestito dall'ex assessore Calogero Segreto. Devo dire, abbiamo trovato massima corrispondenza, interesse e disponibilità. Valorizzazione dell'immenso patrimonio della città di Sciacca. A questo obiettivo guardano il Comune di Sciacca e l'Eco Museo dei Cinque Sensi che ieri pomeriggio hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Sentiamo. La valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale, artistico, musicale, paesaggistico, artigianale, gastronomico, delle tradizioni ed altro ancora. È uno degli obiettivi che si prefigge il protocollo stipulato ieri pomeriggio dal Comune di Sciacca con l'Eco Museo dei Cinque Sensi. Istituzione Comunale ed Ecomuseo dei Cinque Sensi si impegnano a collaborare per la realizzazione degli obiettivi di valorizzazione e promozione delle attrazioni ed eccellenze della città di Sciacca in una rete che coinvolga anche altre istituzioni, realtà, condividendo e attivando ogni iniziativa utile e l'uso di strumenti innovativi prevedendo pure la formazione e informazione dei giovani affinché diventino i protagonisti del museo diffuso. La firma del protocollo è arrivata dopo apposita delibera di giunta ed era attesa e auspicata sin dal momento della costituzione a Sciacca dell'Associazione di Promozione Sociale presieduta da Viviana Rizzuto. Altri comuni vicini hanno già siglato un protocollo con l'Eco Museo dei Cinque Sensi e altre adesioni si prevedono nei prossimi mesi. Esprimiamo entusiasmo e soddisfazione infatti commentato Viviana Rizzuto per la sottoscrizione di questo documento che rappresenta il completamento di un percorso iniziato agli inizi del 2019 e che ha visto un'intera comunità quella saccense unire le proprie forze per valorizzare le identità del nostro territorio e promuovere le sue risorse. Da oggi la rete costituita nel tempo e ormai consolidata formata da oltre 50 associazioni consorsi ed enti del territorio aggiunge ha finalmente l'opportunità di lavorare in sinergia con il comune di Sciacca nell'interesse del bene comune e per lo sviluppo dell'intera città. Dalle coordinamento tra rete e amministrazione comunale per l'ecomuseo dei cinque sensi ci guadagna l'intera comunità saccense che raddoppia le proprie potenzialità per garantire a tutti gli operatori del settore e ai nostri visitatori un turismo sostenibile e di qualità conclude Viviana Rizzuto. E occupiamoci di viabilità provinciale in corso la procedura che porterà all'aggiudicazione di un appalto di 2 milioni di euro per la manutenzione messa in sicurezza della rete viaria che interesserà i comuni di Sciacca Menfi Santa Margherita Bellice e Sambuca di Sicilia Cattolica Eraclea ne parliamo nel servizio. Scade il 6 febbraio prossimo il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara d'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della rete viaria del comparto Cattolica Eraclea Ribera Santa Margherita Bellice Sambuca di Sicilia Menfi Sciacca si tratta di un appalto da 2 milioni di euro su un progetto elaborato dai tecnici del settore infrastrutture stradali del libero consorzio di Agrigento e finanziato con i fondi del patto per il sud la gara sarà gestita dall'urega di Agrigento finalmente si riuscirà ad intervenire per migliorare la viabilità provinciale da anni in stato di abbandono le strade individuate dai tecnici del settore infrastrutture stradali sono la provinciale numero 30 che consente il collegamento diretto tra la costa e la statale 115 al centro abitato di Cattoli Caraclia e i comuni dell'entroterra la provinciale numero 50 in territorio di Menfi che pur di limitata estensione costituisce per la sua posizione un accesso alternativo al mare soprattutto nel periodo estivo ancora la provinciale numero 41 Menfi Biglio Misilbesi collegamento diretto con le statali 115 e 624 la strada provinciale numero 42 che da Menfi conduce a Partanne che oltre ad essere interessata ad un notevole traffico locale e di mezzi agricoli e un'alternativa per quanti transitano lungo la statale 115 la strada provinciale numero 86 che consente un collegamento diretto alla costa e alla statale 115 di Ribera e dei comuni limitrofi e infine la provinciale numero 17 che collega la Ribera Secca Grande e la Montellegro Ribera alternativa al traffico locale alla stessa statale 115 la durata prevista dal contratto d'appalto sarà di 455 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori una manifestazione di protesta si terrà il prossimo 25 gennaio per chiedere una migliore viabilità provinciale e far sì di conseguenza che la provincia di Agrigento e molti dei suoi comuni escano dal loro isolamento l'iniziativa è stata organizzata dai sindacati CGL Cisleville e dai sindaci del territorio e già preannunciata al prefetto di Agrigento nel corso dell'ultimo vertice indetto su tale problematica sentiamo una grande manifestazione di piazza per chiedere una migliore viabilità provinciale la sistemazione di strade la riapertura di ponti che consenta ai comuni e alla stessa provincia di Agrigento di uscire dall'isolamento perdurante infrastrutturale economico ed occupazionale questa iniziativa indetta per il prossimo 25 gennaio dalle tre sigle sindacali CGL CISL e WILL in sinergia con tutti i sindaci del territorio i dettagli organizzativi saranno resi noti tra qualche giorno ma la mobilitazione di protesta è stata già preannunciata e coordinata al prefetto di Agrigento Dario Caputo a margine dell'ultimo vertice proposto per discutere di tale problematica quasi certamente il sit-in si terrà nei pressi della rotonda giunone di Agrigento al centro della vertenza diverse situazioni sospese da tempo la pericolosità e le recenti chiusure di alcuni tratti della statale 115 le interruzioni pluriannali sulla statale 189 per Palermo e sulla 640 per Caltanissetta i ritardi nella realizzazione del ponte Petrusa la chiusura da oltre mille giorni del viadotto Morandi alle porte di Agrigento senza che vi sia stato seguito alcun intervento le condizioni precarie di buona parte della viabilità interna con molteplici strade provinciali che avrebbero bisogno di essere sistemate e rese maggiormente sicure secondo sindacati e sindaci dunque i tempi dell'attesa sono terminati così come quelli per le chiacchiere ed è tempo di darsi una mossa un'avvertenza quella dell'isolamento viario della provincia che era stato messo al primo posto tra le problematiche del nuovo anno della CGL così come preannunciato pochi giorni fa ai nostri microfoni dal segretario della Camera del Lavoro di Agrigento Alfonso Buscemi a giorni come dichiarato dal sindaco di Montevago Margherita la Roccaruvolo sarà pubblicato un documento comune con tutti i punti al centro della protesta e saranno resi noti i termini della manifestazione del 25 gennaio in questi anni abbiamo assistito a inaugurazioni sopralluoghi decreti ora non possiamo più attendere ha dichiarato il sindaco reggento Lillo Filetto tante le promesse e le rassicurazioni ma ancora poco o nulla viabilità e infrastrutture sono un diritto che reclamiamo da oltre 30 anni protestiamo tutti insieme uniti sindaci sindacati chiese e cittadini questa sarà soltanto la prima manifestazione se necessario ne faremo altre la giunta comunale preseduta dal sindaco Francesca Valenti ha approvato la prosecuzione del progetto Siproimi per i servizi d'asilo e accoglienza per i titolari di protezione internazionale per i minori stranieri non accompagnato il comune di Sciacca già componente della rete di accoglienza Siproimi ex SPAR inoltre inoltre ha adesso formale istanza al Ministero dell'Interno chiedendo ogni autorizzazione al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per lo svolgimento dei servizi previsti nel progetto per il triennio 2020-2022 sarà inaugurata venerdì 10 gennaio alle 17 la nuova sede della CGL di Libera la sede di Corso Umberto è già pienamente operativa per assistere all'utenza come con anche uno sportello di feder consumatori nel corso dell'assemblea sarà eletto il segretario della Camera del Lavoro Riberese un iPad per gli studenti di due classi del primo anno che frequentano i corsi Euroform Scuola Professionale dei Mestieri di Vicolo Valverde a Sciacca un piano di azione messo in campo grazie al supporto di Apple Italia oggi alla consegna degli iPad c'eravamo anche noi vediamo un iPad personale da utilizzare ai fini scolastici è stato consegnato questa mattina agli studenti del primo anno di due classi di Euroform la scuola professionale dei mestieri di Vicolo Valverde un'opportunità unica per i ragazzi di Sciacca che grazie al sostegno di Apple Italia potranno usufruire di questo innovativo strumento come spiega ai nostri microfoni l'Apple Solution Expert Education di informatica commerciale Silvio Mistretta gli iPad permetteranno di potenziare la didattica tradizionale e amplificare l'esperienza formativa degli studenti un progetto molto ambizioso messo in piedi dall'ente in tutta la Sicilia in tutte le sedi in realtà sono oltre 25 sedi grazie a questo progetto 1400 studenti avranno la possibilità di utilizzare l'iPad per studiare qui a Sciacca sono due classi avranno la fortuna di poter utilizzare questo strumento e come dico a tutti i ragazzi sono in questo momento i studenti più fortunati della Sicilia perché nessuna scuola nessun ente di formazione in Sicilia fa questo in questo momento la didattica attuata tramite l'iPad tramite questo strumento ha degli aspetti decisamente positivi sicuramente un maggior coinvolgimento sicuramente la possibilità di parlare un linguaggio più simile a quello che utilizzano i ragazzi perché fanno lezioni utilizzando copia e colla utilizzando le immagini utilizzando i video ogni studente avrà un iPad e lo utilizzerà durante tutto l'anno scolastico e negli anni successivi e ha la possibilità di utilizzare delle applicazioni specifiche per la didattica una cosa che dico sempre è che uno dei nostri fiori all'occhiello per esempio è la realtà aumentata che in una scuola professionale una scuola come questa è molto molto importante ad esempio stiamo già cominciando a sperimentare l'utilizzo di questo strumento per esempio nelle materie tecniche quindi quando si parla di corsi di operatore del benessere piuttosto che cucina piuttosto che altre materie tecniche è uno strumento veramente utile perché rende più coinvolgente la lezione e aiuta gli studenti a comprendere meglio quelli che sono i concetti che devono imparare e soprattutto ad acquisire le competenze un progetto ambizioso e innovativo quello che coinvolge gli studenti di Euroform che attraverso i suoi corsi che vanno dall'operatore del benessere alla meccatronica dall'accoglienza turistica alla ristorazione prepara ragazzi ad inserirsi presto nel mondo del lavoro Euroforma sempre più al passo coi tempi come hanno reggito i ragazzi a questa consegna i ragazzi sono molto contenti pensate che la tecnologia è qualcosa che fa contenti tutti figuriamoci i ragazzi quindi tecnologia grazie all'iPad a disposizione insomma dei ragazzi a servizio della didattica e l'iPad sarà a disposizione non solo in aula per i ragazzi ma ricordiamoci che poi gli iPad saranno consegnati diventeranno proprio di proprietà appunto dei ragazzi sono tanti i corsi attivi in questa scuola Euroforma offre la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro ma in diversi settori non solo operatore del benessere ma anche il meccatronico operatore delle lavorazioni artistiche che è un altro settore molto importante che offre grandi possibilità di impiego per quanto riguarda i ragazzi soprattutto a Sciacca pensiamo insomma ai diversi settori dell'artigianato che possono e potrebbero offrire molto spazio ai ragazzi ad esempio operatore delle lavorazioni artistiche che si inserisce benissimo nel settore della ceramica lavorazione del vetro ma anche del ferro delle ceramiche e quindi pensiamo alle grandi opportunità e agli stimoli che possono avere i ragazzi più semplici che si può pensare è quella per esempio la destinazione che Sciacca può avere nel settore del carnevale delle lavorazioni artistiche e adesso vediamo quale libro ci consiglia da leggere la Mondadori di Sciacca Carola Rachete è la giovane donna che nel giugno 2019 dopo i giorni di richieste di aiute attese in acqua internazionali ha sfidato i divieti delle autorità per portare in salvo i migranti presi a bordo della Sea Watch 3 diventando in pochi giorni un simbolo globale di coraggio giustizia e fedeltà ai propri ideali ma Carola Rachete è molto di più di quello che i media internazionali hanno raccontato in quei giorni concitati è un attivista con una chiara visione e una fortissima passione civile un modello per tanti ragazzi e ragazze che scelgono di impegnarsi per un mondo migliore con questo appello appassionato e convincente motiva le ragioni delle sue battaglie e ci ispira a combattere in difesa dell'ambiente dei diritti umani del futuro del pianeta perché oggi agire non è più una scelta ma un'urgente necessità prima che sia troppo tardi Il mondo che vogliamo di Carola Rachete Edito Garzanti Per oggi è tutto grazie ancora una volta per essere stati con noi appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti